4.000 lavoratori dovranno entrare nei centri per l'impiego nelle regioni di tutta Italia. Abbiamo decine e decine di lavoratori già impiegati in questo servizio in Abruzzo. Noi chiediamo che la regione Abruzzo si faccia garantire a questi lavoratori un rimpiego all'interno dei centri per l'impiego. Sono lavoratori che hanno maturato anzianità di servizio, hanno maturato competenze per far sì che il radito di cittadinanza e possa essere una misura efficace, c'è bisogno di lavoratori preparati. Loro sono già pronti, non vediamo per quale motivo bisogna girare lo sguardo da un'altra parte. Noi rappresentiamo i precari di tutta la regione che chiedono attraverso questa circostanza di rientrare negli uffici dei centri per l'impiego e quindi di non disperdere tutto questo patrimonio e l'esperienza che è stata acquisita negli anni. E chiediamo di far presto perché noi poi sappiamo come fare e cosa fare e quindi di rientrare immediatamente anche per rendere attiva ed efficace la misura del radito di cittadinanza.